Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Charlene di Monaco, nuovo dramma per la principessa. La moglie di Alberto II deve fare i conti con una triste realtà, i suoi gemellini hanno un'altra mamma Ecco di chi si tratta.Charlene Whitstock.Non trova pace la principessa di Monaco Nuova batosta per Charlene Whitstock, i suoi gemellini hanno un'altra mamma Ecco tutta la sconvolgente verità.Nuovo dramma per Charlene di Monaco Non trova ancora pace la principessa Whitstock. La moglie di Alberto II ha attraversato un anno molto turbolento e le sorprese negative per lei non sono ancora terminate Nel 2021 è stata ricoverata in un ospedale in Sudafrica per diversi mesi a causa di una brutta infezione che ha colpito anche il cervello e poi per altri tre mesi in una clinica in Svizzera per recuperare da un esaurimento psicofisico che l'ha fortemente destabilizzata Charlene.Da qualche settimana ha avuto lo che da parte dei medici per poter ritornare a Palazzo Reale e godersi finalmente la sua famiglia, in particolare i figli Jacques e Gabriella che sono stati lontano da lei per tanti mesi Proprio riguardo ai suoi adorati gemellini, spunta fuori un'indiscrezione che ha sconvolto tutti, Jacques e Gabriella Grimaldi hanno un'altra mamma I gemellini di Monaco hanno un'altra mamma.Jacques e Gabriella sono le persone più importanti per Charlene Whitstock, la speranza che ha dato forza alla principessa di guarire e rimettersi presto in sesto per poter ritornare da coloro che sono per lei i gioielli più preziosi Gemellini Grimaldi.I gemellini sono nati dal matrimonio con il sovrano Monegasco Alberto II Purtroppo per tanti mesi una mamma è stata separata dai figli, mentre Charlene era ricoverata prima in Sudafrica e poi in Svizzera, i gemellini sono rimasti sempre a Palazzo Reale Sapete chi si è preso cura di loro? Un'altra donna.Stiamo parlando di Carolina di Monaco che è stata definita dal settimanale tedesco Sconewoky che sgancia la bomba, la seconda mamma dei gemellini Carolina di Monaco.Alberto II, impegnato con i vari compiti ufficiali di corte, ha affidato nel periodo in cui Charlene è stata lontana da Palazzo Reale, i suoi gemelli proprio alla dorata sorella Più volte Carolina è stata paparazzata ad eventi pubblici e ufficiali o anche semplicemente in giro per Monaco, mano per la mano con i suoi adorati nipotini Si mormora che la principessa Carolina stia istruendo alla perfezione Jacques, futuro ereda al trono monegasco e che sia dunque sua premura occuparsi personalmente della sua istruzione per far sì che in futuro possa essere un perfetto reale Charlene di Monaco è devastata.La principessa sudafricana e la principessa monegasca non sono mai andate particolarmente d'accordo, anzi Charlene non ha mai sopportato l'idea che Carolina stesse così troppo vicino ai suoi figli tanto da aver preso addirittura il suo posto Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao